porta la data del 17 aprile pasqua di resurrezione del signore la nuova lettera pastorale del vescovo della diocesi di vallo della lucania monsignor cirominiero in occasione del decimo anniversario della sua ordinazione episcopale alla guida della chiesa cilentana camminiamo insieme e il titolo nonché l'auspicio della lettera pastorale che ripercorre il cammino di questi dieci anni rievocando i momenti vissuti le criticità incontrate e le sfide raccolte per mettere la comunità cristiana dell'intero territorio in cammino sui passi profetici di san paolo sesto e della sua evangeli nunzian di papa benedetto xvi e di papa francesco con la evangeli gaudium una lette da pastorale nel segno dell'evangelizzazione e delle rinnovate esperienze di sinodalità che hanno preparato di fatto il percorso che oggi si vive insieme a tutta la chiesa italiana non mancano i riferimenti alla riforma della curia e delle forme di organizzazione pastorale promosse nella diocesi con la centralità delle foranie e delle diverse occasioni di evangelizzazione di prossimità un'attenzione particolare viene rivolta anche alle forme di devozione popolare che sono parte essenziale dell'identità delle comunità locali con un ruolo speciale riservato a maria a cui è affidata la diocesi e che il vescovo miniero ha voluto sottolineare anche nel suo motto episcopale con maria evangelizzare con questo documento che rappresenta una tappa importante dell'esperienza diocesana vissuta dalla comunità accanto al suo pastore miniero apre le tracce programmatiche del suo ministero pastorale anche per i prossimi anni un camminare insieme che possa caratterizzare sempre più i passi della chiesa della diocesi di vallo della lucania